Prima di tutto, volevo premettere che siamo felici di fare questi lavori di riqualificazione della piazza perché io ho abitato a Bottega per 25 anni, quindi ritorniamo un po' alle nostre origini. I lavori inizieranno nel mese di ottobre, verso la metà di ottobre, e più o meno avranno una durata di un mese e mezzo, quindi è prevista la fine lavori entro la fine del mese di novembre. I lavori riguarderanno la riqualificazione di piazza Rossini, saranno principalmente una ripavimentazione della piazza con una pietra, l'asfaltatura e poi riguarderanno la pubblica illuminazione, però questa è stata appaltata ad un'altra ditta che poi avrà anche la riqualificazione delle varie illuminazioni del paese di Bottega e del comune di Vallefoglia. I lavori sono stati appaltati per un importo di circa 70.000 euro e non vediamo l'ora di iniziarli e terminarli per vedere riqualificata una piazza che fa parte poi anche della nostra vita di azienda, perché noi abbiamo avuto anche la sede per tanti anni a Bottega di Vallefoglia.